Io sono l'ingegnere Bonora, progettista e direttore dei lavori di questa struttura. Sono un dipendente dell'azienda Usla e stiamo seguendo i lavori di questa struttura che sono la realizzazione di 48 posti di degenza, più solo operatori che verranno successivamente e una serie di impianti a correddo per far funzionare tutta la struttura. Adesso stiamo tirando sulla struttura che è una struttura in prefabbricato come potete vedere. Di fatto sono stati tirati sui pilastri, sui pilastri in appoggiato il sovaio e poi dopo tutto viene legato con un getto di calcestruzzo. La chiusura della struttura è fatta con strutture in vetro non trasparenti dall'esterno. Saranno i reparti chirurgici che adesso trovano sistemazione all'interno dell'ospedale, l'ortopedia con i suoi 20 posti letto, la chirurgia ginecologia con 24 posti letto, poi ci saranno i 4 posti letto della terapia semi-intensiva, quella che è la DEA e inoltre ci saranno 6 posti letto di dei hospital, di dei surgery, cioè della chirurgia di giorno per quei ricoveri che non hanno necessità di una lunga permanenza in ospedale, quindi che non necessitano del pernottamento, ma che nell'arco di 12 ore di urne al massimo possono essere tranquillamente dimessi a domicilio. Questo lavoro, la costruzione di questo padiglione con questi reparti chirurgici permetterà una riorganizzazione del personale che potrà lavorare in un contesto diverso con riduzione di tempi morti, di spostamento, ci sarà il reparto che lavorerà allo stesso piano, quindi ci sarà una omogeneità nella gestione dei pazienti, questo comporterà sicuramente un'ottimizzazione delle risorse di personale presente. Vediamo per il futuro come è possibile, eventualmente, in forza di eventuali ulteriori attività, come pensare anche ad eventuali potenziamenti. L'impegno che c'è da parte dell'azienda è notevole, l'investimento è stato importante. L'azienda USL ha il progetto di ristrutturare tutta la sua rete ospedaliera, quindi già abbiamo visto per l'ospedale di Cento, per l'ospedale di Comacchio, l'ospedale di Argente ha già visto un'importante ristrutturazione nel poliambulatorio di Via Bertoldi, dove un anno fa è stata aperta l'attività ambulatoriale. Adesso si procede con la ristrutturazione di tutti i reparti chirurgici e con le nuove sale operatorie, questo per dare agli utenti un miglior comfort alberghiero e per avere un ospedale che sia in linea con la normativa regionale che prevede un accreditamento della struttura. Quindi si tratta di adeguarlo dal punto di vista impiantistico, dal punto di vista delle attrezzature. Un ospedale veramente nuovo. Grazie.